Oh, è davvero spavoloso, non c'è niente di meglio che riunissi famiglia e potersi tutti una bella cena. Oh, per favore, prendi questa scuola e metterla e gli abbracciati. Vai alla fritta, figliolo, non ti fai vedere da un pezzo, è bello riavere le tue chiappe con noi. Da quando lavori a quell'università ti credi così importante che non puoi passare un po' di tempo con la tua famiglia? Non sono molto occupato. Non le voglio, non le patate, il pure mi fa uscire il gas. Vai, Sarah, a che tempi la gente stava di più con la famiglia di Domenica nelle ricorrenze speciali. Era più rispettoso. Stai dando le cavolate, ti perderai tutti gli anni d'oro di Ernie, i suoi magici anni d'oro, non te lo perdonerai mai. Ti presento tuoni pure. Il piccolo ha un po' di cazzo dalle stelle. Ecco la che parte, coppola, tu la piatti. Mamma, mamma, bevi un po' d'acqua, sì. No, la mi hai sputata addosso, cazzo. Attenza a quella lingua perché non c'è sfumato, c'era di proprio fatti i cacchi. Sherman, cucciolo, ho cucinato tutta questa roba per te, non mangiare. Ehi, 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 che ti prende? Qualcosa l'ha mangiato con tutta la pezzo. Eh, papà, nel pollo tutte le calorie si trovano nella pelle e nel grasso. Cos'è tutta questa storia di grasso e calorie? Sai che te l'ha messa in testa quella dannata a televisione? Ogni volta che la scendi vedi uno che parla di perdere peso, essere sano, tornare in forma, vanno tutti in giro da norestici dicendo che quella è salute. Io so cosa è sano e ti dico anche un'altra cosa. Tanto per cominciare non capisco perché tutti vogliono perdere peso. Non dobbiamo essere per forza della stessa misura, dobbiamo essere diversi. Grandi, piccoli, medi, nani, tutto questo è già contemplato. Non so perché vogliono essere tutti della stessa misura come quella Oprah Winfrey, da un giorno all'altro dimagrita. Non c'era niente che non andava a lei, stava benissimo, era una bella gnocca. Ha perso tutti quei chili e ora ha una testa enorme e la pelle che le pende da tutte le parti. E il Thor Gendross, quello era noto come il Pavarotti Nero. Anche lui ha perso tutti quei chili e sembra un stecchino. Ciò Oprah è l'utero, si mettono di culo, chi li riconosce più? Sì, spero proprio che Oprah stia bene, sembrava fatta di plastica. Oprah è sciana come un pesce, l'ho vista una settimana fa su Arcobier, il ritratto della salute. Ti è beccato un giovanotto alto e muscoloso di nome Stedman, proprio niente male. Lei è la mia preferita fra tutte, Lenny Jones, Marilyn Cagur, Moripovic, Leather Marlin, Montel, Ricky Leiby. Io sbavo per girando. Matt Douglas, oh Matt Douglas, sapete Matt Douglas mi faceva bagnare tutta quando guardavo il suo show. Mi bagnavo tutta, lo ammetto. L'unico bianco che mi ha fatto provare una cosa del genere è stato Matt Douglas. Vi offro volontario per porre fine alle sofferenze di questa rincogliorita. Non usare più parlare della mamma in questo modo. No, no, ferma lì, tu non devi proteggermi da Cletus, avanti Cletus, Cletus, vieni, vieni qui. È una breve passeggiata, che ci vuole, vieni. Però dopo te ne andrà in sofficando. Verrai qui camminando ma tornerai in sofficando. Non ti farei ingannare dai capelli grigi, non sono una bacucca spompata. Sai qual è il tuo problema? Non vai in palestra, devi fare esercizi, guarda me. Sono tutto buco, tu sei ciccia, io sono buco. Oh, guardate il mio pulicino, è un piccolo Ercole. Fammi vedere di nuovo quel bustolo. Ercolino, 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 Ercolino. Una volta che fai esercizi il tuo metabolismo accelera e puoi mangiare tutto quello che vuoi. Dai, affogati i tiro, la mani, tranquilli. È una bestia. Questi ricetti dimostrano che alcune persone sono geneticamente predisposte ad aumentare di peso. Forse in un futuro non troppo lontano potremmo trovare una cura. La sola cosa che tu devi studiare è il tuo culo. Io ho un culo grosso, tua madre ha un culo grossissimo. Che? Hai un culo grossissimo, aiuti a renegarlo. Ora i culi e la nostra famiglia sono grossi, perciò ti ci devi abituare. E non mi importa quale dieta si segui. Puoi cucirte il buco dello stomaco, quello del culo, resterai sempre grasso. Sto cercando di dire che le conflitte scientifiche irrompono nella nostra vita tutti i giorni. E che potete? E ti romperà solo il tuo culo, intanto sta per irrompere l'acquisitura dei tuoi pantaloni. Sono Sherman, ho sentito parlare in tv della pulizia del colon. Dicono che tutti se la dovrebbero fare. Sto pensando di prendere un appuntamento e andare giù in città e farmi dare una pulita a fondo al colon. Vuoi farti pulire il colon? Bene, intanto io pulisco il mio. Ecco, ora il mio pallone è pulito. Pulito in battito. Che è di solito, c'è la cosa? Sono queste scolcezze? Adesso ti metti a scorreggiare, non rovinarci la cena. Non dirà a me di smetterla, sei tu quella che ha tirato fuori la pulizia del colon. Io non ho parlato di scorreggio, ho solo detto che mi sarei fatto pulire il colon. Tu vuoi fare infilare tubi nel culo di qualcuno, io non posso fare nulla. Io non ho detto niente riguardo a questa storia di tubi da infilare. Cosa vuoi fare la pulizia del colon? Credi che mandi nel tuo culo l'auto lavata? Mi fai soffocare il bimbo. Apri bene quello. Tu rimetti tutto nel piatto del giorno, lo mangi dopo. Io c'ho qualcosa di lavoro. Tanto per cominciare. Chi mi ha chiamato? L'ho chiamato io, c'è il tuo nome? Stai diventato. Questo te lo tiro in mezzo alle chiappe. Posso continuare tutta la serata. Bene, che si spenga il motore di quelli dietro smarritato. Che il pulcino partecipa. Oh cazzo, non la viste. Io non sto fami solo imbrattando i pantaloni. Adesso che li pulisci da solo, imbrattamo tanto.